Una campagna elettorale che a Pescara continua nel segno degli appuntamenti dei quattro candidati a sindaco. Anche oggi e nei prossimi giorni si cerca di conquistare l'attenzione soprattutto alla preferenza dei 103.000 cittadini aventi diritto al voto. I quattro candidati proseguono nelle loro manifestazioni elettorali in vista dell'8 e 9 giugno a Pescara. Il sito cusciente Carlo Masci presenta la lista Masci sindaco per Pescara unica 2024, una delle sei liste che sostengono la sua candidatura a primo cittadino. Con Masci ci sono i 32 candidati al Consiglio Comunale che compongono le liste, presentazione che si è svolta nella centrale Via Parini. Il PD ha commissionato un sondaggio, partita aperta, Masci avanti al 43%, Costantini 37,5%. Analisi di Wimpole escluderebbe una vittoria al primo turno in certo l'esito delle elezioni. Il candidato civico Pettinari cotato al 16,8% potrebbe essere l'ago della bilancia per il ballottaggio, Fusiglia al 2,7%. Incontra i cittadini strada anche Costantini centrosinistra che domenica alle 10.30 parteciperà alla biciclettata sulla strada Parco. In via del Santuario invece, davanti alla chiesa della Madonna dei Sette Dolori, il candidato sindaco Domenico Pettinari ha tenuto una conferenza stampa sul tema Colli di Pescara Abbandonati, presentazione programma strade. Sempre oggi Pettinari terrà un comizio sulla strada Parco, angolo via Cavour, domani un altro comizio nel parco di Villa de Riseis, domenica comizio in piazza Salotto e incontro con i cittadini nella zona della Madonna. Anche Gianluca Fusilli, Stati Uniti d'Europa, prosegue la campagna elettorale tra incontri e Sittin. Stamani ha incontrato gli ordini dei commercialisti e nel pomeriggio le comunità musulmane e i commercianti a largo Madonna.